La città si prepara ad accogliere i turisti come Pesaro, città italiana della cultura e quindi l'applicazione della rossosta parlerà oggi le diverse lingue per permettere a tutti i turisti che verranno a trovare la nostra città durante la prossima stagione soprattutto anche in diverse lingue. Questa è la prima delle applicazioni perché la seconda è la possibilità di prorogare inserendo la target verso i parcometri da qualsiasi parcometro anche la durata della sosta. E il terzo è un elemento molto importante, è un'applicazione B-Move presente in più di 180 città d'Italia che verrà applicata anche al nostro parcheggio e questo ci darà la possibilità di prorogare facilmente da qualsiasi luogo siamo e ancora di più permetterà a tutti quei commercianti, a quelle persone che entreranno nella zona traffico limitato di poter fruire del permesso per entrare con un semplice clic quindi senza file e senza attese. Questa innovazione che è stato il risultato di un investimento di più di 100.000 euro di Pesaro Parcheggi sarà fondamentale per accogliere i turisti in una stagione importantissima come quella che ci aspetta. Con questa applicazione evitiamo quegli spiacevoli episodi e non sono pochi che magari tardi di 10 minuti, un quarto d'ora la ricarica della sosta a pagamento e ti arriva una sanzione. Quindi a fronte dei 50 centesimi dell'euro che devi mettere per evitare la multa devi magari farti 500 metri a piedi per ritornare a cercare la macchina e integrare il grattino. Con questa applicazione si può fare utilizzando il parchimetro più vicino quindi senza muoversi più di tanto e dobbiamo essere al passo con la tecnologia e attraverso questo strumento riusciamo ad esserlo. Importante sarà soprattutto anche l'utilizzo di B-Move per l'accesso alla ZTL stiamo lavorando per altri 8 nuovi varchi nella zona traffico limitato e si eviteranno attraverso l'utilizzo di questa applicazione le file al comando della polizia locale che magari caratterizzavano molti utenti nei mesi e negli anni passati.